Il punto fondamentale è mettere i treni della linea 1 in circolazione, quella è la battaglia numero 1 perché se la linea 1 è efficace e efficiente tutto il sistema dei trasporti ne beneficia, anche la linea 6 di cui oggi si parla perché c'è in te scambio a municipio, quindi questo è certamente il compito più importante visto che abbiamo già 12 nuovi treni da 105 metri. Su questo il Ministero sta lavorando a nostro favore, quindi spero che nei prossimi giorni possano ripartire le prove dinamiche che furono sospese a luglio quando ci fu quell'incidente. Poi stiamo trattando con Roma per un enorme finanziamento per la linea 10, questo è il compito più grande che abbiamo in queste settimane, la linea 10 è quella che deve connettere l'alta velocità di Afragola con Afragola, Casoria, Casavatore, Napoli. Questo sarà uno dei grandi compiti di questa amministrazione, cioè la nuova linea della metropolitana.